Caso Orlandi, finalmente la notizia che tutti attendevamo. Ti sei mai chiesto quanto possa essere efficace una commissione d'inchiesta in casi di scomparse misteriose? Oggi vi portiamo dentro la commissione d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Le posizioni contrastanti nel Senato, la tensione con il Vaticano. Se sei affascinato dalle intricanti scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e ti chiedi se la nuova commissione d'inchiesta possa finalmente portare alla luce la verità nascosta per decenni, allora questo aggiornamento è imperdibile per te. Assicurati di restare fino alla fine. Ma prima di iniziare non dimenticate, gentilmente, di iscrivervi al nostro canale e di attivare tutte le notifiche tramite la campanella. Grazie. Nel Senato, il senatore Casini esprime preoccupazioni sull'utilità della commissione d'inchiesta sulle scomparsi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La sua critica al possibile uso improprio delle commissioni genera reazioni miste, ma il Senato, dopo otto mesi, approva la commissione con qualche astensione, tra cui quella di Casini. E voi, amici gossipini, cosa nel pensate di questa decisione? Fatecelo sapere tramite i commenti, vi amiamo leggere. La discussione sottolinea la speranza di gettare luce sul caso, ma anche i timori di uno spettacolo mediatico. Pietro Orlandi, il padre di Emanuela, accoglie con soddisfazione l'approvazione, pur esprimendo dispiacere per alcune astensioni. Ritiene che la commissione possa contribuire alle indagini in corso e spera che possa fare di più rispetto alle autorità giudiziarie. La discussione in aula evidenzia posizioni contrastanti sulla necessità della commissione. Ed ora non dimenticate di condividere questo video e di cliccare un bel like. Grazie. Nonostante l'approvazione, restano interrogativi sulla tempistica e sulla tensione con il Vaticano, che definisce la commissione come interferenza. La commissione viene comunque approvata, lasciando il pubblico in attesa dei prossimi sviluppi. Vi terremo aggiornati. Continuate a seguirci su Amica Gossip per le ultime novità. Grazie e alla prossima.